Questo paesaggio da astro spento si chiama Verdun. Mezzo secolo fa la morte ha arato questi campi. Qui si è svolta la più sanguinosa e sterile battaglia della storia. Qui si sono battuti 4 milioni di soldati. Ben 400 mila vi sono morti. 200 mila tedeschi, 200 mila francesi. Gli storici militari sostengono che la battaglia di Verdun durò 10 mesi, dal febbraio al dicembre 1916. In realtà è durata 4 anni, dall'agosto 1914 al novembre 1918. Ma certo, il massacro, l'ecatombe, hanno raggiunto il culmine in quei 10 mesi del 1916. Perché questa ecatombe? Di chi la colpa? Fu un massacro scientemente voluto? O un errore strategico gravissimo? Nel febbraio del 1916 la grande guerra non ha ancora compiuto i due anni. Dopo la battaglia della Marna, nel settembre 1914, l'invasione tedesca è stata fermata. L'ala destra dell'esercito imperiale germanico, minacciata d'avvolgimento dalla controffensiva francese, è stata costretta a ripiegare. Così Parigi è salva e i due eserciti, nel tentativo di aggirarsi a vicenda, danno inizio alla corsa al mare. Alla fine dell'anno la situazione strategica può dirsi stabilizzata. La guerra di posizione ha posto fine alla guerra Lampo, al Blitzkrieg tedesco. I francesi sono riusciti, a prezzo di perdite sanguinose e lasciando al nemico una grossa fetta di territorio nazionale del nord-est a contenere prima e a inchiodare poi la poderosa macchina bellica del Kaiser.